E' sì, un guagliare saluto dal Presidente che dopo la scontaglia che è venuta per due uomini, una nuova vivente, risponde il vento e il vento e il vento e il vento e il vento per prendere una corsa di un sistema che potrebbe arrivare adesso sotto il quale c'è questa seconda parte di un regione, in specie dove c'è compagno e con chiude, con le cittadini, in una delle cose che il conto europeo che erano proprio potenti entrare, in ciotto volte, l'Unione e Parma si sono affrontate in Serie A in Toscana con nove vittorie dei padroni di casa, cinque degli ospiti e quattro spartizioni della posta. E' partita dai tanti ex, sei in tutto, una tra i viola e cinque tra i 10 anni, lo scorso anno vissi nettamente la Fiorentina per 3-0. A dirigere il match è stato chiamato Carmine Russo di Nuova, il tempo è discreto a Firenze, è una giornata di sole con temperatura riosa e vegetale, sono 20.000 circa, studio.